Noi faremo così, lei venga puro, che lei vedrà se è vero quello che ho detto, lei venga, studia, appoggi e sia sicuro, che diventa un ginnastico perfetto, perché io comincio con le vaglie duro, poi allargo i muscoli del petto, e quando è il tempo che sarà maturo, mi fa pigliare volo come un uccelletto, che se lei mi frequenta la ginnastica, con due mesi di studi e di lezione, io lo può diventare de gommelastica, che poi, qualora avesse fantasia, di volesse formare una posizione, può fare pure il pagliaccio in compagnia.